Salve a tutti, sono Valeria Piancorosso, una della Quinta Cucina e oggi presenteremo tre piatti tipici della cucina indiana il formato di agnello, il ticca di pollo e il chedi di frutta questo progetto coinvolge tre discipline, la cucina, la sala e l'inglese e adesso posso la parola ai miei compagni che spiegheranno brevemente i piatti il cui Madagnallo è un piatto risadente alla depressione locale